Non poteva essere che Remo Rapino, il vincitore della 22esima edizione del Frentano d'Oro, dopo il successo nazionale riscosso con il Cocciamatte di Borio, che gli è valso il premio Campiello 2020, finalmente Remo, profeta in patria, scherza lo scrittore lancianese durante la presentazione della manifestazione coordinata dal giornalista Mario Gian Cristofaro. Sabato 9 ottobre la cerimonia di premiazione al Teatro Fenaroli di Lanciano, con la presenza annunciata di alcuni vincitori delle edizioni precedenti e l'omaggio di un libricino di poesie scritte dallo stesso Rapino. Innanzitutto va detto che il professor Remo Rapino, che insegnava appunto storia e filosofia al liceo classico di Lanciano, non è che scrive da oggi, ha cominciato a scrivere con l'Iborio, no, lui ha scritto prima alcune poesie bellissime, alcune sono riportate anche nella pubblicazione che noi accompagneremo alla manifestazione e pubblicazione che sarà distribuita gratis insieme ad un'altra pubblicazione che ricorderà Ennio De Benediczi, il nostro indimenticabile presidente, più un libricino che lui darà in omaggio a tutti i presenti. Poi ha fatto una sezione anche di racconti, alcuni legati alla realtà, tipo di sti ottobre delle vicende di Lanciano, del territorio, poi è venuto fuori questo libro sul Liborio, che anche lì è importante, perché lui praticamente ha riscattato un po' quei personaggi che vengono dati, vengono giudicati come coccematte, ma in realtà sono quelli che dicono la verità più degli altri. È un libro del tutto, perché è un successo? È un libro del tutto nuovo, scritto in un linguaggio misto tra l'italiano e il dialetto, però accessibile a tutti e ha portato in alto il nome di Lanciano con il premio Campiello che ha avuto nel 2020 e quindi ha centrato in pieno quello che è lo spirito del nostro premio, cioè quello di premiare un langianese che in qualche parte del mondo o in tutta Italia o all'estero abbia portato in alto il nome della città.